È stato scongiurato fortunatamente il peggio perché la situazione davvero poteva degenerare ma gli agenti del commissariato sono intervenuti immediatamente e hanno individuato il soggetto che aveva commesso l'insano gesto. Sicuramente animato dalla rabbia iniziale per la multa subita, poi non ha perso il lume della ragione andando proprio a creare una situazione dove penso che sia andata anche bene per i danni che ha causato tramite l'arma da taglio perché per come si è svolta la scena c'era veramente il rischio che poteva togliere la vita a qualcuno. Voglio fare un plauso al personale del commissariato proprio per l'abilità e la velocità con la quale sono arrivati sul posto unitamente altre forze di polizia individuando il tizio che si stava già defilando in mezzo alla confusione del dottore Dandone che ha coordonato l'intervento della procura di igiene e non ha appunto avuto difficoltà sinergicamente nel disporre la traduzione presso la casa circondaria per il reato di tentato omicidio. Gli elementi che emergono sono due fondamentalmente. Il primo che è un incensurato a seguito di una situazione che poteva degenerare viene poi accusato e gli si contesta un reato gravissimo che è il tentato omicidio. Il secondo elemento è invece quello positivo dell'intervento da parte dei cittadini. Per tanti mesi voi avete ricercato anche attraverso le nostre interviste facendo proprio dei veri e propri appelli alla cittadinanza. Voglio sottolineare la civiltà e la grande vicinanza che i soggetti gelesi che sono intervenuti in massa hanno dimostrato prima agli operatori della polizia municipale che stavano appunto operando per il rispetto delle regole della circolazione a lungomare e poi ai nostri uomini che avendo visto che avevano individuato il presumibile autore non dando invece motivo di gesti eclatanti tipo appunto l'ingiaggio che i ragazzi hanno preventivato che ci poteva stare perché proprio avendolo individuato poi erano molto sgomenti e molto vendicativi nei confronti del soggetto che si è reso responsabile dell'azione criminale di cui abbiamo parlato. Per fortuna grazie all'intervento tempestivo dei miei operatori del 113 che hanno mantenuto lucidità nonostante il caos, nonostante la moltitudine di persone terrorizzate per via dell'accaduto sono riusciti ad individuare questo uomo e a chiaramente arrestarlo. L'evento tuttavia si pone anche come esempio perché forse è una delle prime occasioni, rarissime occasioni, in cui i cittadini intervengono a tutela della sicurezza di altri cittadini. Sì, infatti ha stupito positivamente anche noi questa partecipazione e questa solidarietà manifestata dai cittadini verso un'aggressione perpetrata da quest'uomo ai danni di un vigile che stava svolgendo il suo lavoro, quindi stava verbalizzando, contestando una violazione del codice della strada e quindi in adempimento di un suo dovere.